buongiorno il vangelo di luca oggi al capitolo 10 versetti dal 38 al 42 ci racconta della visita di gesù a una famigliola di amici marta e maria due sorelle con il fratello lazzaro sono abituati ad ospitare gesù e i suoi discepoli che passano per betania mentre sono in cammino verso gerusalemme è bello gustare questo aspetto della persona di gesù che vive l'amicizia la fraternità che gode di momenti di condivisione in maniera semplice perché è veramente uomo e in questo modo ci mostra come sia importante saper gustare della genuinità delle cose belle delle relazioni per la nostra vita l'episodio è conosciuto perché accade che maria si siede ai piedi di gesù e lo ascolta mentre parla e insegna arte invece dice il testo è distolta affannata per i molti servizi sta preparando da mangiare per tanti ospiti corre a destra e sinistra ed è interessante marta vede maria seduta e rimprovera la sorella però attraverso il signore come se lui fosse distratto e non si accorgesse che marta si sta dando da fare per loro per servirli come se gli occhi di gesù fossero tutti per maria per la sorella c'è un po di gelosia forse c'è un po di invidia ma soprattutto c'è un senso di dimenticanza marta infatti dimentica la cosa più importante gli occhi di gesù che sono gli occhi del padre sono anche per lei in ogni istante in ogni momento ecco perché gesù elogia la sorella maria ha scelto una parte migliore che non le sarà tolta qual è questa parte migliore se non lo stare sotto lo sguardo del maestro o meglio accorgersi che il maestro ha occhi per ciascuno e per ciascuno sa dare quello di cui ha bisogno in questo momento marta tutta indaffarata nel darsi da fare non si accorge che prima ancora che le opere c'è la relazione e che in questa relazione anche lei è al centro del cuore e dello sguardo del signore quante volte anche noi passiamo la nostra giornata pensando che dio si è dimenticato di noi che il suo sguardo non si poggia sulle nostre vicende che la nostra vita non interessa il signore e come bello importante invece fermarsi un momento riconnetterci con lui e renderci conto che in realtà se qualcuno non si dimentica dell'altro questi è certamente il nostro signore che non smette di avere per noi un'attenzione uno sguardo privilegiato accompagnandoci e non abbandonandoci mai nemmeno nelle vicende di ogni giorno e di che possiamo cogliere la parte migliore una presenza una parola un'attenzione di cui abbiamo tanto bisogno e che trasforma la nostra vita nella pienezza di una presenza che non ci abbandona buona giornata